Io prima di fare X Factor ho fatto anche amici e mi ricordo che andavo alle audizioni ed ero l'unico nero a fare l'audizione, l'unico. Piano piano la musica è quella cosa che ti deve anestetizzare totalmente dalla realtà, quasi per tenerti lontano dalla realtà. Se Bob Marley arrivasse con uno dei suoi cd, rei tutto devi fare un tiktok, gli dicono Bob, Bob senti, devi mettere roba per fare tiktok, e Bob è lì tipo, eh ma io non faccio tiktok, no li devi fare! Quell'anno era l'unico anno in cui c'era Maria Di Filippi. La cosa di Sanremo di quell'anno è che purtroppo abbiamo avuto dei problemi tecnici, non è andata benissimo. Che tu mi raccontavi di come sei finito a cantare dentro la canzone nostra. Ah sì, oddio raga, storia assurda. Si guarda, c'è Mace che ha trovato un iPad, non so di chi era, ha trovato una cartugola, dico guarda è mia, è mia, è mia e niente, esce anche lui. Ti dico guarda qualsiasi cosa tu vuoi che io faccia, se mi ritieni l'iPad te la faccio gratis. Ti piacerebbe? Sì bro, assolutamente mi ha ritratto l'iPad. Vado in studio e mi fa guarda fai quello che vuoi, metto voci, robe, e era la canzone nostra. Oiana Passa quella palla Give and go Sono libero Ma metto dentro con un finger roll Capitano della squadra, sono leader bro Leader bro Qui sul campo c'è Lucifero Stile più skills, non batti l'equip Sebra in the gym We're gonna mix on big checks Si chiedono che ho fatto per entrare nella league Ho sbagliato mille volte prima di arrivare qui Bitch Check it out, check it out Step out Ragazzi, oggi è una timbata speciale, anche oggi come tutte, perché più che per l'ospite è perché siamo quattro fratelli, no, di origine Ghana, Nigeria West Africa represent West Africa, seduti qui, quindi credo che sia una cosa bellissima, sia una cosa che sarebbe bello iniziare a vedere più spesso, perché lo sappiamo Prima non era fattibile vedere queste cose, quindi niente, diamo il benvenuto a Leslie Ciao a tutti, grazie mille, grazie dell'invito Grazie a te per essere qui, insomma oggi abbiamo un cantante con una voce incredibile È vero, puoi dirlo, lui l'esperto Tra le tue voci in questo paese, lo sai, lo sai, va a fare il tiro Lo sai che lo sai Niente Leslie, ci puoi presentarti magari per chi non ti conosce, per chi sei, cosa hai fatto, anche se lo sappiamo già Ok, ciao a tutti, sono Leslie Saki, ho 32 anni, faccio il cantante in professione, da quasi 20 anni Ho cominciato, forse anche di più, ho cominciato a 6, 7, 8 anni a calutare Come dicessi sei mesi 6, 7, 8 anni, adesso non mi ricordo precisamente l'età e poi da lì ho preso questa aspirazione di cimentarmi col canto E ho vinto l'edizione 2016 di X Factor Con la band Soul System, io sono uno dei due frontman E niente, non so cosa dire, nel senso... No, era giusto per... Qualche info Qualche info, sì Comunque, cantante, per sé, professione, cantante Com'è nato il tuo percorso? Il percorso è nato all'età di 6, 7 anni in chiesa Mia madre era direttrice del coro sia dei bambini che dei giovani All'inizio mia madre non credeva in me, diceva, ma sì, dai, mio figlio, canta, sì, bravino E poi, adesso non mi ricordo, però ho questo ricordo vivido Che avevo, credo, 8 anni Canzone solista in chiesa, tutti che piangono, tutti che dicono Cavoli, tuo figlio, bravissimo E da lì la mia mamma fa, vabbè, dai, potrebbe essere una cosa che potresti fare E da lì ho iniziato a cantare per anni e anni in chiesa Ho fatto tour internazionali, anche gospel, con artisti sia ghanesi che nigeriani E poi da lì, a 18 anni, ho iniziato a collaborare con Cheryl Porter Ho fatto l'edizione per il suo coro E da lì è arrivata tutta la fama di adesso Quello che c'è adesso Quello che sei oggi Yes Quindi diciamo che il gospel è stato molto importante per la tua crescita Sì, è stata la mia base, è stato il genere che mi ha fatto innamorare della musica Anche perché comunque la musica gospel non è solo sister act Sì, sì, ci siamo capiti Però è proprio un'espressione di come tu percepisci Dio E quindi lì, capito, l'emotività, il credo, ci sono tante cose, quindi È spirituale Spirituosa A te piace il gospel? Perché queste domande? Cioè non ascolto il gospel mentre cammino in giro No, no, certo, però dico Sì, cioè, è buona Mi piace la buona musica, sì, sì Cioè riconosco che spaccano molte canzoni gospel Ma sai perché? Te lo chiedo perché Io ho visto che un sacco di artisti sono partiti da lì E' come se li avesse facilitato poi a conquistare le altre persone Tipo una che mi piaceva un sacco era Jennifer Hudson Ok Vocalità della paura Sì, diciamo che è molto comune nelle comunità nere Soprattutto sia afroamericane e tuttora in Italia Nel senso i nostri genitori quando sono arrivati qui negli anni 80-90 per fare comunità Avevano lo stesso credo, cristiani Hanno iniziato a creare queste piccole comunità evangeliche Dove io sono nato e dove tanti sono partiti Anche tanti miei colleghi artisti afro-italiani sono Credo anche Tommy Ma in realtà io andavo in chiesa e stavo nella stanza del mixer Quello è vero Ascoltando tutti i seri No, a volte però ho fatto, cioè quando facevano il Children's Anniversary Ok Ho fatto io, tipo, che facevo io la predica davanti Vero, facevi dance, è vero, è vero Facevo la predica davanti a tutti Cioè, credo che quello in realtà, non la musica, ma il fatto che io a 12 anni Dovessi alzarmi e parlare davanti a 200 persone È una cosa che mi ha insegnato e me la porto dentro Assolutamente È un'arma forse Questo non ci avevi mai detto Sì, ma io no, sono un ingeriano, cioè, in chiesa Cioè, fino a 20 anni ero quasi obbligato ad andarsi, in serio In chiesa Tu che facevi in chiesa? Mamma mia Tu che facevo? Dietro, in fondo Così E poi puntualmente il preacher Tu, tu, là in fondo, vieni, vieni Venevi utilizzato per la predica Sì, venevi utilizzato E tu? Ah no, tu sei musulmano Esatto Scusami Ehm, a proposito, no? Che questa So che voi Tutti e due provenite più o meno da Brescia, no? Ah no Si può considerare Brescia una patria di artisti? Perché, cavolo, sono usciti un gran bel po' di artisti Secondo me sì Ma io ho sempre detto questa cosa qua Che se dovessero Trovare un posto d'Italia Che è un po' il Bronx Americano È Brescia, non Milano Perché in realtà Perché in realtà a Brescia Ci sono molti ragazzi come noi Cioè io e lui abbiamo un sacco di amici in comune E cioè io in realtà vengo da un paesino Si chiama Castiglione Però Cioè borderline Brescia Però tipo quando Intorno ai vent'anni sono Ho incominciato a frequentare Brescia E proprio la città E sono rimasto meravigliato veramente Le prime volte che ci beccavamo Perché la caratteristica di molti Cioè secondo me Quando Cioè la cosa bella di Brescia è che Ci sono molti ragazzi di origine Senegalese Ghanese Così Però la condividono la cultura E nasce una nuova cultura Non mi dimenticherò mai Che avevo certe amiche italiane Che quando parlavano l'italiano Lo parlavano con l'accento un po' di un Di un Di un Sì, è vero Davvero Davvero Non la conosco così bene No, no, no Non la conosco così bene Non credo che ci sia Non la conosco così bene Poi credo tra Ma sì A Brescia c'è lo slang Infatti era una cosa Che mi stupiva C'è proprio lo slang Sì Ci sono molte parole In La Decio Cioè non lo so Ci sono tante parole Che è lo slang Ma non È lo slang Dei ragazzi cool Giovani Che sono cresciuti In questo mezzo Ok Sì Tutto vecchio Ma cosa sono Mischiate con le varie culture Sì Sì A volte sono parole Che Cioè Una parola che viene un po' Da nigeriano Ganeto senegalese Bresciano Sì Sì Tipo un Semilpato Non è proprio un pato Però è un miscuglio Adesso io sono troppo vecchio Per questa cosa Io mi ricordo Quando frequentavo Brescia Mi piaceva che Cioè imparavo parole nuove Modi di essere Ed ero mood Cioè ho come la sensazione Che In altri paesi d'Italia In altre città Magari un ragazzo giovane Come noi Finisce per Tipo Assimilarsi totalmente Nella cultura Italiana E perdere un po' Il suo Così Come quando Abbas andava in giro Con la sua Con la Smart Con la Smart Prima di allora Io non l'avevo Cioè neanch'io Avrei mai utilizzato Quel termine Perché poteva essere Solo e soltanto Dispensativo Però a Brescia Io no Lo sa Lo sa Beh questa cosa è bellissima Perché io ho avuto la stessa La stessa identica cosa Dove sono cresciuto Che c'era una forte comunità Quindi per questo Conoscevo un po' Anche Come funzionano le chiese gospel Le chiese evangeliche Perché ho avuto un sacco di amici Che poi si sono andati a trasferire in Inghilterra Come sempre Solito Classico E adesso è finita Sono a Londra Wow Anche te Anche te Pazzesco Io posso dire che il 99% dei miei amici se ne è andato I miei amici in Nigeria È vero Sì Con il quale sono cresciuto Dalle mie parti 99% Sono tipo l'unico rimasto Infatti Sono sempre un po' triste Perché sia per me che per lui Cioè il nostro potenziale artistico Secondo me Poteva essere espresso molto ma molto di più Se il 90% delle persone Fossero rimaste ancora qua Parliamo che rappresentiamo nella nostra musica Fossero rimaste qua Però se ne sono andate Nuova vita E poi spesso se ne vanno E sono tipo Ciao Italia Ciao Tornano Nell'accento tipo inglese Dici ma bro Parlavi tipo Parlavi italiano Parlavi italiano 5 giorni fa Tu invece Hai mai pensato di Cercare di sfondare Fuori dall'Italia Oddio Sai quante volte Sì Assolutamente sì La cosa che però mi ha fatto rimanere La voglia di Di spaccare con l'Italia Perché comunque penso che l'Italia sia un paese Con tante possibilità È la cosa che devi farti Un mazzo così Perché comunque Sei uno dei primi E le possibilità te le devi creare Non ci sono già state Messe prima di te E quindi devi lottare un pochettino Un po' di più degli altri E quanto è stato difficile per te Questa cosa? Molto Abbastanza Molto Perché io magari Tipo Io prima di fare X Factor Ho fatto anche Amici Sono entrato nell'edizione del 2000 Edizione del 2014 Se non mi ricordo L'anno dei The Colors Ok Mi ricordo che andavo alle audizioni Ed ero l'unico nero A fare l'audizione L'unico Ma c'erano altri Magari altri ragazzi di altre nazioni? Zero L'unico nero Cioè erano tipo Non so Magari 3000 partecipanti alle audizioni Io ero l'unico Cioè non scherzo Giuro Magari forse Sui quattro giorni di provini Forse non ero l'unico Ok Però Quando sono andato io E questa cosa qui Ti faceva sentire Non bene O ti motivava? Perché eri Tra gli unici? Allora Essendo cresciuto in Italia Questa cosa qui L'ho iniziata a capire Più avanti Però Non mi ha mai Reso Come si potrebbe dire Scoraggiato Scoraggiato esatto O meno degli altri Ho detto Ok vabbè Tanto alla fine Sono italiano come gli altri Sì ho il colore diverso Però Chi se ne frega Let's do this E con l'edizione sono entrato Quindi è stata anche una bella Rivincita Con un brano in italiano Che di solito sai Quale brano? Il mio canto di livra è di Battisti Wow Sì Sì perché ho un amore per Battisti Io In credito Sì 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 Perché mi dico No perché tu Tu hai un hate Contro gli artisti No no ma in realtà Lucio Battisti Mi piace Poi? Ma no ma anche di Andrè Ma mi piacciono un sacco gli artisti Allora concordo Vai So già cosa vuoi dire Io quando faccio Quella illusione Dico Liga Cioè è ora con la tecnologia Che anche l'Italia Si aggiorna Piano piano E a livello di altri paesi Però per molto tempo La musica era Accordi in quadro Canzoni d'amore L'estate Che bello La luna Ci sta È un punto Non il mio punto No 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 Mi piace Mi piace sottolinearlo No no è vero Ma concordo anche io Secondo me Io preferisco più Per me Contro gli italiani Battisti Mina De Andrè Quella musica Il cantautorato Vecchio Che dici Ci sono artisti Che hanno riproposto Questa cosa Abbastanza bene E cos'è cambiato Secondo te Negli anni che Wow Un carico oggi Ma intendi Cioè 20-10 anni Adesso In che senso Negli anni Nel senso Che tu hai citato Questi artisti Che hanno fatto La storia Nell'Italia Anche non È cambiato Che secondo me Adesso La musica Vabbè Dato dal fatto Che Le piattaforme Streaming Hanno velocizzato Le cose I testi Sono sempre Sempre più Leggeri Non hanno più Quella profondità Secondo me Di una volta Secondo me Questo è Ci sta È una risposta È una risposta Non soddisfatta Sì no Nel senso che Non Non lo so Adesso la musica È così troppo veloce Che non ti godi Neanche La parola O la frase Dici Minchia che frase Adesso Adesso È tutto Troppo veloce Infatti Nel progetto Che sto facendo Adesso Sto cercando Di ritornare Un po' Quella roba lì Ed avere Dei testi Un po' più Corposi Più corposi Sì Solo questo Perché adesso Poi sarà anche Perché comunque Ho un'età Di un certo tipo Non sono vecchio Però Quella roba lì A me piace tante Non la vedo Nei giovani di adesso Sì ma Poi vabbè È anche un altro È un'altra era Nel senso che Quando vedo Il blanco Cioè per me Blanco dico Ok Se dico Adesso non voglio citare I nomi A caso Musica pop Senza Musica pop Esatto Sì C'è anche un Apprezzo Allora Musicalmente Mi fa impazzire Ma ultimo Apprezzo Però i suoi testi Ok Che scusa Ultimo Ultimo Cioè Ultimo Sì No 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 Guarda che No vabbè Gusti Ci sta È che Sono Ma poi tu Sei un cantante Io sono Sì esatto Ci sta Che Io abbraccio più che canta Sì Ma scherzo No La verità Però sì Io posso dirti questo A proposito di questo Cioè metti che io Ultimamente Cioè sono indipendente Però Sto sentendo Varie etichette Per capire con chi Uscirà la mia roba Spesso Spesso sento Il commento del tipo Eh ma no Tu parli di cose serie Devi essere leggero Sì leggero Cosa intendi? No no Devi parlare di come stai Della tua storia Quelle cose lì Le tue opinioni No 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 Sì leggero E tu dici Eh ma io sono cresciuto Così Che questa musica Mi ha cambiato la vita Perché la gente Diceva cose Che avevano Una certa importanza E tu lì Poi cosa Ti adegui O fai di testa tua Allo stesso No faccio il mio Cioè Faccio il mio Faccio il mio Ma anche perché Cioè tipo Questo Sei troppo pesante Non è neanche Per canzoni Esplicitamente Sovversive Rivoluzionarie Così Sono semplicemente Mie punti di vista Su quello che accade Cioè non mi definisco Tipo necessariamente Un attivista Cioè faccio canzoni Succedono cose E racconto l'Italia Che vedo Però Cioè Ma se ci pensi Se pensi anche Alla musica che esce È chiaro che Questo è un po' il mood In questo momento È come se Piano piano la musica È quella cosa lì Che ti deve anestetizzare Totalmente dalla realtà Quasi per tenerti Lontano dalla realtà Quindi è giusto Che sia A detta di molti Leggera Però magari Non è il mio viaggio personale Wow Sai che paradossalmente È strano Cioè Per staccarti Magari in realtà Uso la musica Per raccontartelo In modo poetico Tipo Se faccio un esempio Un po' Po' easy Però Bob Marley Bob Marley La sua musica La sua musica È super leggera Leggera Nel senso A livello di Musicalmente Sono quattro accordi Una cassa In quarta Che dà Il cuore Come una musica Reggae Però i testi Ragazzi Redemption song Io ti assicuro Che Redemption song Get up Stand up Stand up for your rights Capito? È vero che è l'inglese Però comunque Con la roba lì Cioè Mentre adesso Ma forse anche Non so se solo in Italia O forse a livello mondiale Se Bob Marley Arrivasse con uno Dei suoi cd Tutti così Cosa accadrebbe? Sì direbbero bro Dai dai Peso Vieni tutto E devi fare un tiktok Gli dicono Bob Bob Siediti Vieni tutto Bob Cioè con questa roba qua Devi mettere la roba Per fare tiktok E Bob è lì tipo Eh ma io non faccio tiktok No Assurdo È vero Mamma mia E tu immaginati Un Tupac Capito Vabbè un'altra era Vabbè un'altra era Cioè io comunque Sono consapevole Che i tempi cambiano Ed è giusto Che comunque I giovani di adesso Si esprimino Con I loro metodi E con I mezzi di comunicazione Che hanno Per Però A volte vorrei dire Ragazzi Figo Diciamo che con internet Si è persa un po' la cosa Del Fammi andare a capire Chi ha scritto Chi ha prodotto Chi ha fatto Cosa c'è attorno Cioè Adesso internet è così veloce Che Burn 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 Che perdi quella Quella pesantezza Nelle cose E quindi Il consiglio che potrei dire Ai giovani Di oggi È di È di avere voglia E curiosità Di conoscere più cose Nella musica Non serve solo aprire L'Hableton O il Logic O il Qualsiasi Dov E mettere un type beat E andare Cioè L'artista diventa Se conosce Se stesso Ed è connesso Alle realtà Che attorno Quindi Domanda però Cioè siccome Voi volete sempre La nostra opinione Voi due Anche voi ascoltate La musica Sono curioso di capire Cioè mi immagino Che anche tu Ti sei innamorato Di 50 Cent Ai tempi In passato Ma ora Della roba che esce Sia americana Che italiana Cosa è che risuona Con te Nella tua mente Cioè nel tuo cuore Nella tua anima Perché mi guardi così Eh nel senso che Questa è anche una cosa Che a me un po' preoccupa Nel senso che Faccio fatica A Ad ascoltare Il 90% Delle canzoni Di oggi Cioè sono Anche americane Sì Anche hip hop americano Perché Non lo sento Mio Magari Come Magari Brani Parlo magari Di 4-5 anni fa Magari li sento Più Più miei Quelli Che Più che Quelli di oggi Capito Non lo so perché Non lo so perché Non te lo so dire Forse perché C'è stata Tante influenze Della Afrobeat Magari Ho iniziato Ascoltare Molta di più Afrobeat Che anche lì Adesso sta cambiando Però In che senso Nel senso che Sto notando che Magari le canzoni Che Facevano Magari 4-5 anni fa Ok Più o meno Non sono quelle di adesso Cioè sono Sono molto Diverse E si stanno evolvendo Esatto Si stanno evolvendo Cioè tipo Prima ad esempio Amapiano Non c'era Adesso vedi Afrobeat Amapiano Adesso senti Magari Spesso Afrohouse Anche lì C'è un'evoluzione Poi io non sono un esperto Come voi Però Sento che c'è Quell'evoluzione Cioè l'unico Secondo me Artista Che non vuole cambiare Sarco Die Sarco Die No Sarco Die Non cambierà mai L'unico Eh vai No 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 Di No no Penso a tutti quelli Che ci vedono da casa E dicono Di cosa stanno parlando Amapiano Esatto Amapiano è un genere musicale Nato in Sudafrica Che sta diventando mondiale Giusto Sarco Die Il rapper ganese Più forte Forse alcuni dicono Il rapper africano Più forte The goat Io lo chiamerei The goat Ci sta Qualcuno fa Però No allora Diciamo E' stato uno dei primi Che è riuscito a portare Anche a livello internazionale Secondo me Adesso so che dirò Una roba che creerà Una file Anche prima del You know Dei whisky Certo Cioè diciamo che I ganesi L'afrobeats Cioè il genere afrobeat È molto recente Come nome Come genere Per me Il mio afrobeat Di come sono cresciuto Era il hip life Quindi il sacco Il tic tac Il samini Sono con gli artisti ghanesi Che ovviamente Guardavo Sai su quei canali Satellitari Che Sono nominate Shatawale Shatawale Ma lui viene dopo È molto recente È venuto dopo Cioè C'è Prima samini C'è samini C'è Shatawale Oddio Non voglio dire Cavalatus Dai però È venuto dopo Sì è la versione Aggiornata Io rispetto del Ghana Che loro sono giù Con il rap Con il rap Tipo in Nigeria Non spacca il rap È vero Se si pensi No diciamo che i ganesi In questo momento Con il drill Sta andando fortissimo I ganesi con il drill Sì ma poi anche La drill ganese Sì Tutta un'altra cosa Nigeriani Drill Quindi Quindi è questo Forse per questo Magari Sono meno aggiornato Su Diciamoli pop Perché c'è stata Questa grande influenza Della Della Afrobeat Non mi sa che hai ragione Perché Anch'io Cioè prima Solo In città americana Io lo sapevo tutto Esatto Era un'enciclopedia No da stroppa roba C'è altra roba No c'è altra No però se tu ci pensi Io questa la considero La cosa positiva Della musica In quest'era Ok Credo che il dominio Culturale Americano Proprio a livello Popolare Della cultura Con l'avvento Di queste nuove tecnologie Dei social media Piano piano Sta diminuendo E vedi che Emergono talenti Da veramente Mille altre parti Del mondo E tu puoi interagirci Con queste scene qua Non è come Dieci anni fa Cioè come facevi A scoprire Un rapper Francese A meno che Hai un amico Cioè ora Cioè Spotify Io ogni tanto Faccio questo esercizio qua Scrivo Jamaica Top 50 E mi ascolto Le cance Giusto per capire Soprattutto a volte Quando faccio i viaggi Per capire un po' Il mood del paese Hai mai provato A cantare in Reggae? No Reggae Ma no Più che reggae Magari Denzel Mi rendo conto Che se io fossi Cresciuto Con quello In farinatura Maggiormente Probabilmente Lo farei Però Cioè nel contesto In cui sono cresciuto C'era più Tu invece? No io sto Con il canto Non hai avuto Una domanda L'ho avuta Però per andare a ballare Ma ero più sempre Per me era R&B pure Ok R&B Ecco infatti A proposito di R&B E poi ritorniamo a te Perché se no Parliamo di tutto E non parliamo di te Come mai R&B in Italia Non funziona? Wow Però non puoi farmi Questa domanda Lo so Però lo sai Che io sono un amante Dell'R&B Pure io Allora no Ma in che senso Non funziona? Che non c'è un seguito Esatto Per me è una questione Di cultura L'R&B È un genere Che nasce E cresce in America Quindi su questo Dobbiamo dirlo È diventato mondiale E quindi Tutti noi neri Nella diaspora Sia europea Che è Ci rivediamo molto La cosa bella È che R&B Nasce comunque Sui timi d'amore Che l'amore Sulla musica Vince sempre In Italia L'amore È Battisti Non è Usher Non è Capito? E quindi Culturalmente Accostarli Sia a livello di musica Che di ritmo Che di Anche di progressione Cioè magari su Usher Con senti tipo E dici Però in Italia Capito? Sto ragionamento Però mi fa capire Anche perché Certe canzoni afro Magari in Italia Siano più difficili È quello A funzionare Io ti dico questa cosa qua Vero Cioè Avendo viaggiato In altri paesi Mi rendo conto Che in Italia È il canto Che è famoso Cioè il bel canto Non il beat No Però Cioè tipo A livello ritmico Secondo me Si può dire che Già magari In Italia Molte persone Possono avere difficoltà A ballare Certi tipi di brani Perché infatti Se pensi anche In le canzoni afro beat Che hanno successo in Italia Sono quelle Con il ritornello popissimo Che ti rimane in testa In Gerusalemme Che non devi veramente ballare Ma se già è una cosa Che richiede groove Diventa difficile Ma perché te lo dico anche Tipo per come funzionano i concerti Io non mi dimenticherò mai Quando frequentavo Questa ragazza americana Lei è venuta con me al concerto E mi ha visto fare questa cosa qua Oh su le mani Oh Ok Fate cose E dopo si gira da me E mi fa Ma perché tratti Gli spettatori come dei bambini stupidi No 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 Ma è che Però è come Cioè siamo abituati a vivere la musica Non credo che ci siano Molti altri modi Per già fare in Italia A meno che fai il poco esagerato Oltre a Battere le mani a tempo Chiaro Così No Cioè Mi sa che la cultura del ballo Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Eh sì Sì infatti quando intendevo come Cioè No 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 La cultura italiana Era quella Chiaro Ma Leslie Torniamo a te no? Tu hai fatto Amici Hai fatto X Factor Sono curioso di sapere questo Cioè Speravo Anzi Ho costruito una carriera Anche su questo Ma principalmente perché volevo Volevo fare musica Volevo Volevo cantare Volevo principalmente cantare E sì Il motivo principale era quello Chiaro ma Io Qual è la domanda vera? La domanda vera è Nel senso Tu dopo aver fatto queste cose Ti aspettavi magari più chance Più opportunità Allora Le chance sono arrivate Alcune le ho utilizzate Alcune le ho utilizzate In modo giusto Alcune me le sono fatte scappare Ormai Sicuramente Perché Beh parlando di X Factor Dopo la vincita Sì abbiamo avuto un contratto Con una grandissima major Ovunque andavamo Era Mi sorriso esiste Ok È fighissimo Non ho Secondo me non abbiamo sfruttato benissimo Tutta la situazione E quindi Mi aspettavo Mi aspettavo di più In termini di Disco graficamente parlando E E anche di altro Se parlo Secondo me Mi Mi mandano una diffida O mi mandano tipo La lettera dalla bocca No non si può No non so Alcune cose devono rimanere segrete Purtroppo Eh è dura Purtroppo Ma però Alcune Cioè se mi chiedete altre domande Magari qualche No sai Siamo qui per E Cosa vuoi sapere No non è cosa voglio sapere È dal mio punto di vista No Perché io Mi fratello No sai che Voi due avete anche cantato insieme Sono sempre chiesto cosa Se davvero i cantanti Dopo che fanno questi talent Riescono ad avere quello che vogliono dopo Questo Allora In termini di visibilità Assolutamente sì Cioè i talent in Italia Ti danno un'esposizione Che non potrai mai avere In un tempo così breve in Italia Cioè Diciamolo Siamo sinceri E Bisogna essere capaci a A cavalcare l'onda bene Quella è la cosa Perché purtroppo Tanti lo fanno Tanti lo fanno Tanti vincono Il nostro album Cioè il fatto di aspettare Ho scritto tutto l'album Entro gennaio e febbraio Però Dai 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 E vorremmo sapere come l'hai vissuto Come l'hai Come l'hai vissuto Sanremo Allora Sanremo l'ha vissuto benissimo È stata anche una bella rivincita Perché Sono entrato ad amici Sono uscito Sono uscito il gennaio e febbraio Perché sei amici Dura sei mesi Quindi Saremi fino alla fine Hai voglia Sono uscito subito L'anno dopo Sono uscito Pianto E ha fatto le mie cose L'anno dopo Vento X Factor E Fatalità Quell'anno Era l'unico anno In cui c'era Maria di Filippi Quindi Ritorno L'ho rivista Mi fa Guarda Bravo Complimenti È stato caparbio Non è mollato La cosa di Sanremo Di quell'anno È che purtroppo Noi eravamo in In gara con Sergio Ok Sergio Silvestra Sì Che è un nostro caro bro Nella serata delle cover E purtroppo Abbiamo avuto dei problemi Tecnici E Non è andata benissimo Quindi non ho un bellissimo Ricordo di Sanremo Però A livello In generale È stata una Bellissima esperienza Che Calcare quel palco È una Una figata assurda Cioè C'è una cosa che Ricorda Cioè Racconterò ai miei nipoti I miei pronipoti Ero Eh guarda Tu nonno Tu zio È andato a Sanremo Eh Io c'ero E quindi Sì L'unica cosa Che cambiare Di quell'esperienza Proprio è il fatto Che Sai perché Lì è live tv Quindi One two three vai Se capita Un problemino Sei Fottuto Quindi È anche il bello Del live Ecco Nel senso Certo Però sì Generalmente Quella serata Anzi In quel periodo È stata proprio Una serata Di rivincite Per me Perché comunque Rivedere Maria Rivedere Il maestro Pino Perris Che comunque Era stato uno dei maestri Che mi ha seguito Per arrangiamenti Robbe Quindi Bello E col gruppo Come mai vi siete Divisi? Col gruppo Ci siamo Abbiamo preso Una pausa Perché Sì Io dico pausa Ma Tradotto Tradotto dai Ti dico una pausa Ma sì dai Lesi la verità Aveste sciolti Sì ci siamo sciolti Perché Abbiamo Abbiamo Visto che non c'era più Quella chimica Che Che c'era Negli ultimi Tre o quattro singoli Siamo cresciuti Siamo uomini Abbiamo più di trent'anni C'è gente che ha figliato E quindi Certe priorità Entravano In essere E poi ovviamente A livello anche artistico Personale Volevamo Certe tipi di rivincite Cioè io adesso Sto lavorando Il mio progetto Jiggy sta lavorando Al suo AJ Sta Lavorando con le sue produzioni Suonato per L'ultimo David Adesso Manager Di alcuni artisti Quindi Tempo passa No 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 Ma non ho detto Che è una brutta cosa Quindi è stata anche Un'opportunità per voi Per Cioè vi ha allargato Questo Assolutamente sì C'è La chimica che ho avuto Con Cioè siamo ancora una famiglia Non è che non ci parliamo Cioè ci mandiamo Qualche messaggio ancora Però Artisticamente Aveva un bisogno Di respirare Sai come tutte le boy band Capito Ma è difficile Lavorare in gruppo È veramente difficile Tu ti immagini I tuoi compagni Di squadra Ok Che dovete fare qualcosa Però non è giocare a basket Dovete andare a fare qualcosa E organizzarvi Li sopporteresti Eh ma è diverso Eh lì si fa Non puoi paragonarle Davvero? Sì Non puoi paragonare Una squadra Con una band Aspetta Non fraintendere Perché Cioè chiaramente La squadra Vi dà la struttura Di andare tutti i giorni A fare l'allenamento Per la passione comune E qui siete obbligati Sai cosa? Ah Nel senso che magari Puoi paragonarlo Però sai Uno può cambiare la squadra Negli anni No? Chiaro Tu non è che puoi cambiare Le band Ecco su questo magari Puoi paragonarlo Nello sport di squadra Uno gioca qui Poi gioca di là Chiaro Però con le band Una volta che ti lasci Con le band Uno Non ho mai visto uno Che ha smesso Con una band No ci sono stati Ma è raro È raro Sì ma è che È veramente difficile Gestire Lavorare insieme Con tanti Per tanti anni La cosa è che Trovare il giusto equilibrio Tra famiglia E lavoro Era diventato un po' Perché noi stavamo Tutti i giorni assieme bro C'è il senso Tutti i giorni Cioè dalla mattina Alla sera Cioè mangiavamo Magari venivano le fidanzate Le robe I figli Poi si andava in studio A lavorare Cioè era proprio diventato Un po' troppo Troppo Beh però Il fatto che vi ha dato Grandi opportunità dopo È È bello no? No quello sì Non voglio Non rimpiango niente Con il solo Cioè secondo me È stato Tutto perfetto Se no non sarei qua Se non fosse per loro Però Si cresce Si cresce Quindi Tu hai mai fatto parte Di qualche Gruppo? Ma sì Ma sì ma sempre Io sono sempre immerso In qualche gruppo In ogni momento Però non rimani Ma no ma in realtà Però poi gli elementi Cioè In realtà Per esempio C'è lì Non si vede Però c'è il mio amico Wado Che faceva parte Del mio primo gruppo Ok Si chiamava Manca Melanina Nel 2015 Quando mi sono trasferito A Brescia Avevamo fatto questa crew Si chiamava Manca Melanina Avevamo fatto le magliette Non sono straniero Sono solo straniero Erano diventate virali Sì sì Era una bella fase Poi Cioè Io ho avuto la fase Che tipo Ho firmato con l'Universa E lì era È stato un po' difficile Mantenere gli equilibri Poi Un paio di anni fa Ho ricreato Questo collettivo qua Chiamato Equip 54 Sempre A me piace l'idea Di condividere La roba Cioè Di condividere Questa passione qua Con persone Anche proprio perché Cioè Io Amo imparare Dalle persone Ed entrare Nel loro mood Cioè Tipo un giorno L'anno scorso Ero in studio a Bressa E per qualche strana ragione È passato Leslie Sì Casualmente Casualmente Ma caso proprio caso Casualmente E noi registravamo E lui ha fatto una Ha canticchiato un attimo Portami un po' di quel gospel E abbiamo fatto un brano Che non è ancora uscito Però sì Mi piace la condividere Non è ancora uscito No È spoilerato quindi Non si poteva dire Sì Si può dire Si vabbè Ma è Si dice Abbiamo collaborato Ok Sì Quando esce è un'altra cosa Proprio Ma Vabbè Noi abbiamo sempre Ci siamo sempre visti Quindi Tra di noi c'è una stima reciprocata E quella Quell'aneddoto che hai detto Ah no Vabbè Di Leslie Eh Ah no Vabbè Cioè l'altro giorno Parlavamo Mi fa Dimmi qualcosa di Curioso di Leslie E ho detto Che tu mi raccontavi Di come sei finito A cantare Dentro la canzone nostra Ah sì Oddio Questa è una roba Involire Storia assurda Allora E vabbè Stavo andando tipo Una roba di amici Un aperitivo sui navigli E avevo Devo portare il tablet A quest'altro Amico artista David Blanc E che gli serviva Per una roba di studio Non so Blah Niente Arrivo con il car sharing Arrivo lì E parcheggio Dico cavolo Il tablet L'ho dimenticato Mi fa Bravo Corro Non c'è ovviamente La car to go Niente Chiama car to go Chiama l'azienda Per la privacy Non ti possono dire dov'è Allora cosa faccio C'è il Trova Trova iPad E vedo che In questa zona Di Di Milano Non posso dire dov'è Perché Non credo che Simo Gli faccia piacere Quindi Inizio tipo A suonare Il campanello Tutta la via Bro Tutta la via Dico ragazzi Avete visto una car to go Un iPad Tutti no 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 Storia corta Sono in questo edificio Che non so Che cavolo era Esce l'assistente Di Mace E mi fa Si guarda C'è C'è Mace Che ha trovato un iPad Non so di chi era Ha trovato una car to go Dico guarda E mia E mia E Niente Esce anche lui E gli faccio Ciao Io Ecco Grazie per l'iPad Guarda Guarda Qualsiasi cosa Vuoi che io faccia Va benissimo Ah sì Perché lui mi dice Che è un produttore Blah Blah Guarda Qualsiasi cosa Tu vuoi che io faccia Se mi dai l'iPad Te la faccio gratis Te la faccio gratis Ah ok Bene Bene Sei mesi dopo Mi ritrovo in studio con lui E mi fa Guarda c'è sta canzone Ha uno spirito molto sole Gospel Ti piacerebbe Sì bro Assolutamente Mi hai dato l'iPad Vado in studio E mi fa Guarda Fai quello che vuoi Metto voci Rob Era la canzone nostra E da lì La canzone nostra Se non sbaglio È la canzone più venduta Del 2020 Ho ricevuto un po' di Di royalties Dai Super Super No perché Questa andava Raccontato Sì E la cosa figa È che io ovviamente Sono andato senza Expectations Perché ovviamente Mi ha fatto sentire Solo la parte di Blanco Che ai tempi Aveva fatto Cos'era Notte in bianco Credo Quindi Era forte Ma non era Così In voga E la parte di Salmo È arrivata dopo Quindi ho detto Boh vabbè Figo Facciamo Mi sembra easy La canzone Canzone numero uno In Italia Scioccato Ma poi per mesi Per mesi È stata Sì è stata Una bella botta di culo Ci vuole anche quello Ci vuole anche quello Nella vita Sì sì Sono quelle piccole cose Che mi capitano Che dico È Dio È Dio Magari devi benedire Questa canzone Che abbiamo fatto Anch'io insieme Ora la devo far uscire Basta No assolutamente Ma io porto fortuna Mi diceva mio fratello Che tu hai sempre Vuoi sempre aspettare Per far uscire le canzoni Come mai? Ma non è che devi aspettare È che Prima di tutto Siamo in un'era Della musica Che è particolare Tipo cinque anni fa Sei anni fa Tu potevi fare un pezzo Metterlo su YouTube Pum Basta Cioè Quando tipo Cinque anni fa Avevo la mia crew Con i miei amici Cioè Facevi uscire un pezzo Girava da solo Non dovevi fare Quasi nulla Cioè Quasi nulla Dovevi farlo Registrarlo Fare il video e tutto Però L'algoritmo magari ti premiava Siamo in un'era molto delicata Che secondo me In quest'era Devi avere molta strategia Nel scegliere quello che fai Perché se fai Butti fuori una cosa Senza l'operazione Cioè senza Operazione Sembra come un termine Quasi meschino Demonia Collegato alla musica Però Sì Cioè Devi avere un piano Devi avere un planning È molto ambizioso Che la butti lì così Quindi metti Ok Abbiamo fatto questa canzone qua Sarei contento Di avere La situazione Che faccio uscire un disco così E questo Poi È veramente particolare Se un giorno la sentirai Capiamo È molto figa È molto particolare Sì Tra l'altro c'entra il gospel Vero Di cui Hai E poi c'è anche questo Cioè noi artisti facciamo Centinaia di canzoni Esatto Ma proprio Veramente tantissime Cioè soprattutto In lockdown Cioè Hai scritto tanto Sì E quindi Hai scritto ogni giorno Ho scritto tutti i giorni No Non scrivo tutti i giorni Io non scrivo tutti i giorni Non scrivo tutti i giorni Perché No guarda che Comunque un flusso di coscienza Guarda che tutti i giorni Non è facile Non è facile Io cerco di scrivere Quando sono ispirato Esatto Perché Quando sei ispirato Cioè io ogni tanto C'ho quella cosa lì Che magari ascolti una canzone C'è un'esperienza della vita E ti parte qualcosa da dentro Che è un magone E devi tirar fuori la canzone In quel momento lo fai Se invece Cioè poi lo faccio Esercizio di stile Prendiamo una base Proviamo Ti giuro che Per quanto possa provare Non c'è mai paragone Come quando Io sento una cosa Che la devo raccontare Una situazione Che devo fotografare In quel modo Cioè La scrivo Quindi non tutti i giorni Anzi ogni tanto Benedico i giorni In cui non ho scrivo Perché Succede questa cosa qua Togli la concentrazione Da quella cosa lì Fai una vita Così E poi ci ritorni Ed è come se Sei poteri speciali A volte ho questa sensazione qua Tipo che magari Per due settimane Tre settimane Non faccio nulla E poi Ho il desiderio vero Di tarlo fuori Sei rilassato Poi nel mio caso Io faccio un sacco Di altre cose Oltre alla musica E quindi La mia creatività La butto via Anche La butto giù In altri modi Oltre alla musica Si sta E tu invece La tua creatività Dove Come la metti giù Allora Intendi musica O in generale In generale Allora Ho un game Il mio Instagram game Non è al top Sono sincero Però Preferisco Sono molto più Su video Quindi fotografia Mi piace tanto La fotografia E fare video In effetti Complimenti Perché sono Top Ho visto le foto Sono una bomba totale Ah nel senso Che fai proprio Telefoto Sì mi piace A volte faccio A volte qualche foto Non sono un fotografo Top Però mi piace Sono un po' Sono un po' Nesteta Quindi mi piace tanto La roba Bella Patinata Sì infatti Per quello che Non posto troppo Su Instagram Perché voglio fare la roba Ho capito Questo post Infatti so che mi penalizza Sta cosa Però A me piace avere Una roba Sì Che è bella Sia il video Certo Sì E poi oltre alla musica Scrivo Canto Produco a livello vocale Di cori Mi piace tanto Fare gli stack Quindi magari fare Ormonie Fare Trenta take Di una sola parola Sono un po' meticoloso Su quelle robe lì Fatti i Tommy Mi studiavo abborrito Mi fa Bro dai Va bene Ne fate cinque Va bene Dai bro Sono un po' Sì Sono un po' Meticolosi E basta Musica Poi scrivi per altri Ho sentito Ho conosciuto Sidi Ultimamente Sì Collaboro Sono un ragazzo Che si chiama Sidi Di Vrescia Che canta Stavo lavorando con lui Allora Scrivo Ma non scrivo Non mi Etichetto Come autore Però Di solito Sono bravo a scrivere E lì come funziona Nel senso che Per la persona A cui scrivi Ti dà delle linee guida Dipende Io di solito Non scrivo Con la persona che c'è Ma scrivo Quello che magari ho io E se piace La prendono E Ti piacevano alcuni pezzi Che piacevano a Giorgia Che piacevano a Marco Mengoni Di quello che ho scritto Però Non sono Per quello Non mi profetizza autore Perché non sto lì E non sono E loro l'hanno preso Poi Alcuni L'hanno presi Ma sono ancora Lì Alcuni Quindi Sono artista Mainstream Gli artisti mainstream Prendono una caterva Di brani Se gli piace Prendono certe parti Rifanno Non so Il ritornello Capito Sono Artisti che Si fanno uscire una cosa Si muove il mondo Quindi non puoi aspettarti Che una tua cosa Dal nulla Diventi così Cioè non è come la canzone nostra La canzone nostra è L'eccezione che conferma la regola Nel senso che Si Ti parte un brano Ma non sempre Ti partono tutti i brani Quindi Però scrivo più per me stesso Perché non sono bravo Per scrivere per gli altri Assolutamente no Tu scrivi bro Certo che scrivo Anche per gli altri Cioè sì Sì con piacere Mi diverte però Una cosa che mi diverte Nella vita Infatti mi faccio promozione Se avete bisogno Di scrivere canzoni Io faccio questa cosa qua Vieni Vieni Molto bravo Seduta tipo psicologica Parlami dei tuoi problemi Della vita Dimmi come Ah ti ha lasciato Interessante Lui è stronzo Ok Poi dimmi Tua mamma Cioè mi piace No è un po' come La canzone che hai fatto Per Step Out Ah sì Sì che ti facevo le domande Ma non mi hai fatto Neanche tante domande Sì però Che provo ad entrare In un mood Cioè Tu sappi che per scrivere Quella sigla Ok Ho fatto ricerche Cioè mi piace La cosa Davvero Certo io non so Give and go Non lo so Cioè non lo sapevo Prima di scriverlo Cioè ho detto Ok basket Troviamo le parole Troviamo il mood Cioè mi piace catapultarmi Nella mente È mai ascoltata No 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 È la sigla No la sigla Di Step Out Ah sì 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 Pensavo fosse un parola nuovo No 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 quindi mi diverte Lavorare con gli altri artisti E cercare di tirare fuori Loro Perché cioè Quasi prendere Le parti di un art director Che dice Ok Tiriamo fuori Perché Boh Cioè Questa essenza di te Questo concetto No ci sta Perché poi La sigla Cioè l'hai fatta In pochissimo tempo E infatti Ti ricordi che ti ho mandato Due versioni Due versioni Esatto Mi ho mandato due versioni E poi mi ho detto Eh bro Ma secondo te va bene Faccio certo che va bene Infatti mi ha tenuto sulle spine Eh Perché poi La voglio sapere Eh no Non si può dire Lo sai che mi piace Tenere sulle spine Cacchio Eh poi la vedrai Poi la sentirai Sentirai Vedrai Cos'è Cos'è Secondo me Cioè quella si addice Proprio Thank you È stata perfetta Thank you Sarebbe figo fare un La versione gospel No Per quanto adori il gospel No Ti può fare un album Magari Per step out È un viaggio È un viaggio Bella idea Perché no Cioè includere anche Altre Tutte le soundtracks Così Non lo so Adesso stai andando Sì 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 Perché no Io lo farei più una cosa Che una raccolta di brani Adatti a voi giocatori Mentre vi allenate Però nel quale Prendiamo altri artisti Basta Lo facciamo Via Questo è il nigeriano Che è Business Business No no dai Però Ma sì Ma sì Ma sì bro Ma sì Me la vivo così Ci sta Ci sta Comunque Wesley È stata Una 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 Chiacchierata Bellissima E volevo chiederti L'ultima cosa Che No aspetta Che messaggio Lasceresti A I tuoi fan A Mi fan Allora La frase che mi è rimasta Impressa per tutta la vita Eh Da X Factor È che Il talento è un dono Ma il lavoro È il successo Quindi Qualsiasi cosa tu credi È un talento Ti piace Falla Ma cerca di essere caparbio Tutti i giorni Di farlo Che sicuramente Il successo E i risultati Arrivano Quindi Io sono la prova lampante Di uno Che si è messo lì Continua così Allora Grazie bro Grazie a voi Grazie a voi E non dell'ospitalità Oh Mi raccomando